Musica Con una fotografia emozionante dedicata all'amore tra due persone a lui care, il 21enne di Orciano, Luca Perozzini, geometra di professione, fotografo per passione, ha vinto la seconda edizione del concorso L'amor che muove il sole e le altre stelle, promosso dal comune di Fano in collaborazione con l'agenzia Giovani. La foto si intitola L'amore dura per sempre, l'ho intitolata così perché vedo che mia nonna è sempre costantemente innamorata di mio nonno anche se è ormai morto, dal 94 sono ormai 17 anni e mi ha colpito il fatto che lei lo cerca in ogni minima cosa, spesso la vedo piangere, ancora gli manca, è una cosa che a me ogni volta mi fa venire i brividi. Ho studiato 5 anni all'istituto tecnico per geometri Genga a Pesaro e adesso ho questa passione, passione è anche un po' troppo dire. Mi piace l'edilizia e mi piace il mondo dell'edilizia, però sono affascinato molto anche dal mondo della fotografia, perché la fotografia può esprimere la vita. Ho fatto su Facebook un album che si chiama Life Like a Foto, la vita come una fotografia, anche perché le cose che magari non ci ricordiamo o gli attimi passati che magari ci sfugono all'occhio la fotografia riesce a catturarli e ricordarceli anche nei tempi più bui della nostra vita in cui abbiamo bisogno di conforto o cose del genere.